we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi veramente un sacco di novità interessantissime per quello che riguarda il futuro di fortnite tanti aggiornamenti sui veicoli tanti segreti che stanno venendo a galla ascolteremo dei suoni vedremo dei video vi parlerò anche dei nuovi bundle prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali anche al secondo e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e sono i tanto attesi veicoli sì ragazzi sappiamo che ce ne saranno ben cinque sappiamo che sono in lavorazione ma da oggi sappiamo ancora di più e queste ragazzi sono le statistiche ufficiali per quanto riguarda i veicoli ne prendiamo una a caso ad esempio la seconda medium car ci vediamo subito che nella prima riga ci dice quanta benzina può ottenere quindi 100 unità di benzina la seconda è fuel for second idle penso che sia la benzina che viene utilizzata per secondo quindi vi ricordo che l'algoritmo con cui i veicoli si muovono nella mappa è un litro di benzina chiamiamolo litro anche solo fan gallone per secondo di utilizzo del veicolo quindi 100 dovrebbe voler dire 100 secondi sappiamo anche che potranno spawnare leggiamo la terza ultima riga con 40 di benzina nel serbatoio i veicoli che prendiamo non avranno sempre il serbatoio pieno e se siamo fortunati invece potrà spawnare con 100 di serbatoio vi lascio guardare con calma potete mettere pure in pausa tutte queste statistiche per scoprire appunto tutte le informazioni che vi interessano sui veicoli e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché c'è una grande notizia anche su una delle skin più attese per questa season 3 l'abbiamo vista nel trailer l'abbiamo anche un pochettino scoperta guardando dei gameplay e vedendola da vicino la blaze renegade raider dovrebbe chiamarsi secondo quanto dicono alcuni leakers e la cosa più interessante che dicono è che according to source the renegade blaze rider skin shall be releasing in tomorrow item shop dovrebbe essere rilasciata domani il che vorrebbe dire che non fa parte di un bundle e ci sta perché sappiamo che c'è un altro bundle in lavorazione per questa season mi sembra un po strano che ce la mandano fuori così tenetevi via i vbux non sappiamo niente né di che rarità è né quanti vbux costa né se viene fuori con un set l'abbiamo solo vista sembra molto interessante per tutti quelli che non hanno la renegade potranno ottenerla in questa variante ne andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché voglio informarvi che non esisterà per questa stagione la patch 13.10 come sapete siamo fermi alla patch 13.00 che è praticamente quando abbiamo scaricato l'aggiornamento dalla season 2 alla season 3 la 13.10 non c'è si passerà settimana prossima automaticamente alla 13.20 automaticamente ovviamente vuol dire che dovete scaricare comunque l'aggiornamento quindi nessun update in questa settimana saltiamo e andiamo direttamente alla prossima tanti miglioramenti che verranno fatti ne ho già citati alcuni nei video alcuni bug verranno eliminati e poi ovviamente ci aspettiamo questi benedetti veicoli e andiamo avanti a parlare di un altro argomento molto interessante anzi è un video davvero curioso lo sapete che in mappa è presente un elicottero nascosto e lo potete pure prendere ecco se non lo sapete vi faccio vedere questo spezzone di video ragazzi guardate siamo ora vi si vi verrà aperta la mappa per farvi capire la posizione guardate siamo esattamente riuscite a capire ecco che c'è una zoomata perfetta sopra siepi d'agrifoglio in poche parole come vedete ragazzi sotto qua lo vedete che c'è un elicottero lì nascosto con un colpo di arma da fuoco plock l'elicottero viene fuori e si può tranquillamente guidare quindi se volete fare quelli che si pigliano subito l'elicottero easy track ve lo faccio rivedere voi andate qua lo vedete tranquillamente di sotto colpo di pistola opla l'elicottero in su lo prendi e te ne vai bello bello gagliardo insomma una curiosità davvero interessante mi soffermo però un attimo sugli elicotteri perché è stato aggiornato ieri pomeriggio è stata aggiornata una legacy dedicata agli elicotteri e la legacy è get wrecked come vedete c'è jonesy che cavalca un razzetto e per ottenerla bisognerebbe distruggere un cioppa con un missile battery che cos'è il missile battery non è il rocket il missile battery ragazzi è l'arma che stiamo aspettando addirittura dalla precedente season che sarebbe nient'altro che un lanciarazzi antiaereo quindi con un sistema di tracciabilità sui velivoli non abbiamo ovviamente delle immagini di quest'arma ma abbiamo delle statistiche quindi esiste quest'arma e sarà di rarità rara avrà un 5.0 è il burst firing rate quindi la velocità dello sparo anche se in realtà spara un rocket solo sappiamo che ricaricherà in un secondo in 3,5 secondi il tempo di ricarica e aim assist range 25.000 il che vorrebbe dire proprio che locca obbligatoriamente qualsiasi velivolo ma anche qualsiasi veicolo non lo sappiamo però hanno aggiornato potrebbe magari a metà season o verso la fine arrivare finalmente anche questa nuova arma e andiamo avanti perché c'è una curiosità per tutti quelli che stanno seguendo la storia di aquaman che vi dico ogni ogni mio video o meglio ogni volta che c'è un aggiornamento abbiamo visto che aquaman sarà disponibile lo sappiamo benissimo fra cinque set fra tre settimane con contando quella che abbiamo fatto ieri sappiamo che arriverà anche una nuova location che si chiameranno le rovine ma abbiamo dei suoni vi lascio ascoltare i suoni che caratterizzeranno questa nuova location grazie a tutti come vedete sono veramente suoni molto interessanti e avete anche visto tutte le parti che comporranno le rovine quindi ci sarà un tempio ci saranno delle camere segrete ci saranno dei giardini e abbiamo visto anche che molto probabilmente ci saranno delle skin dedicate a questa nuova location che molto probabilmente sarà ovviamente associata ad aquaman staremo a vedere ragazzi un po con background musicale come quando succedeva che entravamo all'agenzia e andiamo avanti perché questo è il bundle di cui vi ho parlato che purtroppo non ha molte informazioni lo hanno inserito con la patch 13.00 e sappiamo che si chiama ghost bundle perché è formato da tre skin il ghost chaos agent il ghost hash e il ghost wild card è veramente un bundle molto bello a me piace tantissimo il nostro agente non ha una variante per le ombre mentre invece le altre due skin ce l'hanno secondo me è solamente un errore di miniatura non lo reputo sensato a meno che invece essendo già nero ce lo danno così come vedete anche tre backpack dedicati e l'unica cosa che sappiamo è che è stato inserito appunto ma non abbiamo idea né di quando verrà rilasciato né del prezzo anche se secondo me sia girerà intorno ai 19 e 99 né soprattutto la data insomma ragazzi anche per oggi io le notizie ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao ciao